A tutta la mia comunità, grazie ai Nere Tesi, una riconferma importante con una percentuale significativa e prima ancora con un'affluenza alle urne che è superiore a quella dei comuni limitrofi e in generale al trend nazionale dove si sono svolte le elezioni amministrative, siamo 10 punti percentuali sopra, quasi il 70% di concittadini che si sono recati alle urne e questa è una grande vittoria, già questa. I dati sono importanti, è un'affermazione di un nostro progetto amministrativo, civico per il Paese abbiamo fatto questa campagna elettorale dicendo che il nostro partito era Nereto, il nostro partito è Nereto così è stato, la nostra comunità ha compreso, ha abbracciato questo progetto per portare avanti tante opere, tante riqualificazioni siamo stati credibili, un sindaco sciente credibile e una squadra di candidati credibili La campagna elettorale non ha funzionato, soprattutto da parte di qualche ex consigliere ma soprattutto un pt asfaltato questo credo che è il più grande fallimento della sinistra Nere Tese da sempre, di sempre tanti partiti, il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, un'associazione riconducibile comunque a un'area socialista tante siglie, lo abbiamo detto, in campagna elettorale, contenitori vuoti, zero proposte programmatiche tante provocazioni, tante ingiurie, tante diffamazioni che hanno colpito anche le nostre famiglie ma di questo non voglio parlare, noi dobbiamo parlare di altro, di programmi, di contenuti 10 milioni di euro di investimenti sul nostro territorio, di cui 8 di fondi sovraccomunali e non solo di fondi PNRR il più grande investimento, il più grande investimento da sempre e noi vogliamo continuare a crescere perché la crescita è nelle nostre possibilità questo programma amministrativo porterà avanti le opere, i cantieri in itinere, le grandi opere ad esempio la realizzazione dell'auditorium Falcone Borsellino, la messa in sicurezza della nostra palestra la realizzazione di un nuovo impianto indoor per la pallavolo e la pallacanestro e tutta una serie di provvedimenti sull'impiantistica sportiva e sulla sicurezza delle scuole e non ultima la realizzazione della nuova scuola dell'infanzia con 2 milioni e 750 mila euro di fondi PNRR ecco di questo noi abbiamo parlato in questa campagna elettorale e siamo stati premiati con una percentuale molto ma molto importante che ci premia, che premia questo progetto civico, questo progetto amministrativo per Nereto e purtroppo non premia invece l'altra lista che era sostanzialmente una lista ideologica, partitica e la cittadinanza ha bocciato questo progetto politico del candidato sindaco Matteo Settepanello grazie 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 grazie